Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ok, quindi un ragazzo non ti deve portare al sushi? Allora, sì, certo. Dov'è che ti piace che ti porti un ragazzo? Che proprio dici wow, che figata. E in realtà non lo so, non lo devo e ti credo. Siamo con Fabio, che canterà? Allora, non ci hanno fatto preparare nulla, quindi io penso che sono qui per esprimere il mio amore. Il mio amore per una... Sono qui per cantare una canzone d'amore per una ragazza che ho sentito da poco, che si è fidanzata. Kasumi, se mi stai guardando in questo momento. Porca troia, no! Io? Fermo. Fermi il mondo. Io? Sette. Ehm, sei. Come sei? Damn, bro! Demi John, venivi su carlamicchia! Demi John, è zitto! Adesso è uno dei miei coglioni! Sani, sai! Gang, bro! Dove andare a pisciare. Dove viene. E ci giochiamo. Tutto, ah, casinò. Allora, ragazzi, grazie, ciao a cuci... Mamma mia, che schifo! Il cane è tutto! Spero, mi dico, del mio 15 di tutto! Ah, me conosci? Sto facendo... Sono quello dell'aereo. Ma c'è stato... Sono quello dell'aereo! No, no, noi erano il pilota. Era il pilota, si è to... Poi vado in barca via, ho 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 in barca via. Non è... No, perché ho mal di gola. Basta, seduto. Scusa, ho mal di gola. Come è morto Liam Payne? Sì, sento, mi ha... No, puoi! Ho mal di gola! Mi, che abbi rispetto. Ho mal di gola! Sto a dire che, ecco, una roba che non ho compreso è il fatto che comunque... Adesso, ma è partito sto trend su TikTok di fare sto... Sta roba qua di come è morto Liam Payne? Cioè, certo, posso... Posso controllarmi, non siamo bestie. Ok. Ok, va bene, va bene. Mi raccomando. CQ100 euro poi ti mi dai, eh? Vero, eh? Ti le devo dare altre, eh? E quindi me ne dai 800. Ti disastro. Non so. Eh? 840. 20, 20. 320, 320. Eh, quindi quanto fa? 640? Eh. Eh, quindi 40 già, l'unità. No, 20. Come diviso 20? 20 diviso 2, for che ho tre voglia. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. È morto quello degli One Direction. Eh, sì, prima ne stavamo parlando. È morto Liam. È morto Liam. È morto. È morto. Come è morto Liam Payne? Cioè. Ma che cazzo dite? Ma come? Ma... Ma è proprio bello. Ma è vero che c'è una... C'è una disperdita verso. Sai qual è il problema? Perché noi abbiamo fatto tutto il giro della montagna, capito? E quindi, mica, io ho appena mangiato in un hotel, nell'avocado toast. Poi c'era il cappone che continuava a frenare. Perché voleva... Ti prego liberami. Quiri, 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 quiri. Mi sento in galera. Ti prego liberami. E vado giù. Ti prego liberami. Sono pronta per questo viaggio. Viaggio, viaggio, viaggio. Sono pronta per questo salto. Sono pronta per questo salto. Mi chiedo se stiamo volando. Sto solo sognando. Solo sognando. Lasciatemi nel mio mondo. Almeno un altro secondo. Andate senza ritorno. Sempre notte ma è mezzogiorno. Forse c'è una foto d'uscita. Forse c'è qualcosa nel fondo. Ha tutto questo odio. E questa superficialità. Non ti fa vedere chi sono. Perché lo sai che non sono solo. Non sono solo quiri, 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 quiri. Mi sento in galera. Ti prego liberami. E vado giù. Chi cazzo ti hai insultato? Io non ti ho insultato. Mi sono tu. Ti posso insultarmi. Minchia. Ci rimango male. E bro dimmi che cosa ho detto. Hai detto che sono una merda. Hai detto che faccio schifo al cazzo. Quando ieri mi hanno dato la Tearlist. Ma tu mi manderesti in galera. Io non ho mai detto queste cose. Sì invece le hai dette. Però anche ieri nella Tearlist. Fai un Grimbaud. Secondo me è un aborto di streamer. Non ho detto questo. Bro ma ti credono poi. Dai. Ma smettila. Non è vero. Sì l'hai detto. Ciao. Non è vero. Stai muovendo. Comunque ti stai muovendo. Sì. Ecco. Magari tu usi internet. Magari tu usi internet. Eh sai gatto. Aspetta che se no non ti sento. Che miagola. Vai dimmi. Magari tu usi internet per motivi di studio. Lo uso sia per motivi di studio che per motivi di sbago. Ho capito. Dovresti usare. Dovresti usare anche per motivi di lavoro. Su me hai grande potenziale. Di te. In generale. Se non hai certi canoni. Non sei cagato. Almeno magari tu hai successo. E probabilmente magari riesci a avere anche dei riscontri con le ragazze. Mi sto sperando fatti. Capito. Però purtroppo è questo il contesto. Ok. Ok. Aspetta. Matteo. Come la vedo io. Poi magari sto sbagliando. Lo sto dicendo che quello che dico io è vero. Matteo. Ci sposiamo. Matteo. Matteo. Dimmi. Ascolta. Ascolta. Ascolta a me. Attenzione. Io sono solitario dall'età di 14 anni. Molto interessante. Qualche volta me ne vado da una puttana russa. Eppure c'è campo. Cioè sì ma io pure io ho pensato che meglio meglio andrà a Troie che aveva... E non ci posso arrivare. Ma come devo passare da lì? Ma devo passare da lì? Non è che posso superare un tassello? Vai va. Nemo. Guarda la bambola. Non è la bambola. No no no. Non posso. No non posso con lei non posso. Con lei non posso proprio. Guarda. No 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 no. Ex di Giordi. E' bella che... No no no. Oh David. David ci vediamo domani. Guarda un buon cazzo ormai. Buonanotte David. Ciao belli. Ciao David. Di un mostro. Ma un mostro del merda proprio è brutto. Mamma mia se è brutto. Ma no poverino. Ma poverino. Ma che poverino. Ma non l'hai mai visto sulla faccia quando è brutto? Ma altre qualità. Altre qualità. Che c'ha l'uccello grosso. No. No. Ma che c'è solo l'uomo. No è vero è piccolo. No 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 no. Ok. Vabbè. Allora incazzati. Ma che cazzo fumi fa male. Incazzati tantissimo questa roba. Ma stai fumando? Sì. Ma chi è che è stand? Cazzo. È morto quello dell'Eone Direction. Eh sì. Prima ne stavamo parlando. È morto Liam. Liam. È morto. È morto. Come è morto Liam Payne? Cioè. Tieni se piano. Ma che cazzo dite? Ma come? Ma. Ma. E' morto. Ma perché? Io ero fanno i One Direction davvero da quando ero piccolo. È caduto dal terzo periodo in hotel. Ma come è caduto dal terzo periodo in hotel? Oh. Oltre. Terzi piano. Va bene. Ok. Hai venuto. È perché spesso molto veloce. Ti giuro. Sto un lingo fortissimo. Pesso. Ciao Vale. Ciao. La Simone ha dei problemi. Ma non li posso guardare. E lo so. Aiutami. Non li posso sempre super. Posso rasare? Ti dico al ciuffè? Dici dai aiutami. Te lo faccio fare a te. No Simone secondo me. Allora è un bravissimo ragazzo. Per bene. Ma. Da quello. Da quello che. Non so. Mi traspare da te. Cioè non voglio fare lì. No no no. Scrivi subito. È urgente. Ma come è morto Liam Payne? Come è morto Liam Payne? No. Non puoi tu. No no. Rispetto. No no. Oh. No tranquilla. Volevo solo dirlo. Oh no. No scusa. 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 Volevo solo dirlo. No perché avevo mal di gola. Basta. Seduto. Scusa. Avevo mal di gola. Come è morto Liam Payne? Sento. Come succede? Matteo? C'è? C'è? Matteo? Ah quella mano poi. C'è Matteo? Eh mamma quello che è entrato. No. Eh non so. A sapere chi fosse te. Matteo? C'è chi è incattato con te. C'è un capra. ma sembra che abbia appena strisciato no Matteo? perché Green non mi sposta? Dio padre Matteo sei dentro Matteo eccoci ciao Green stavo a catturare la scena mi senti? com'è? si senti? prova pronto aspetta che il microfono non si sente bene? ah no ah non è questo il microfono aspetta